Ammettiamolo, i progetti incompiuti hanno un fascino decadente irresistibile. Forse per questo, a quasi 50 anni di distanza, il mai nato film su Napoleone di Kubrick ancora ci intriga. A maggior ragione oggi con l'arrivo nelle sale del colossal di Ridley Scott. Oggi cercheremo di rimettere insieme i pezzi principali di un puzzle titanico per provare a immaginare almeno un po' come sarebbe potuto essere quello che per molti è il miglior film di sempre mai realizzato. Oggi ricostruiremo la storia di questo Napoleone maledetto, visto che Kubrick, noto perfezionista, ci ha lasciato una marea di documenti, studi, bozzetti da lui collezionati nella lunga fase di preproduzione del film. Una quantità di materiale talmente grande che ancora oggi ci fa riflettere non solo sul suo modo di fare cinema e su quanto fosse importante per lui un progetto del genere, ma anche sull'approccio al biopic storico. E allora ecco a voi la storia del Napoleone mai nato, firmato Stanley Kubrick. Una storia che parte dalla fine. Era il 1994 quando un dipendente della United Artists ritrovò la sceneggiatura del Napoleon di Kubrick. A lungo creduto perso, il copione, pensate, si trovava in una miniera di sale del Kansas, che sorgeva dove si trovava un edificio adibito all'archiviazione dei materiali di proprietà della MGM. Inviata dal regista il 29 settembre 1969, la sceneggiatura fu respinta il giorno stesso dai vertici della MGM, che solo l'anno precedente si erano detti interessati al progetto. Ma nel frattempo la dirigenza era cambiata. Robert O'Brien, che era presidente quando Kubrick realizzò 2001 ed era favorevole a investire su Napoleone, aveva lasciato il posto a Lewis Polk. Un imprenditore del mondo dei cereali, probabilmente strano ai modelli di business cinematografici, e quindi troppo timoroso per prendersi un rischio di un investimento stimato sui 40 milioni di dollari. Una cifra da capogiro per l'epoca, visti anche gli insuccessi di grandi produzioni della stessa MGM, come Hello Dolly del 1969. Ovviamente il flop del colostar russo Waterloo, 1970, diede alla trattativa il colpo di grazia. Ma in realtà Kubrick non smise mai di dedicarsi al progetto, continuando a raccogliere materiale su materiale, tanto che è impossibile dire se a un certo punto ci fosse ancora una concretezza, o se il tutto si fosse trasformato nella necessità di rincorrere un sogno, nella sua Waterloo personale. Jack Nicholson, che era stato preso in seria considerazione per la parte del protagonista, nel 1975 disse «Ne abbiamo parlato un po'. Ero molto eccitato all'idea e lo sarei ancora, ma a questo punto ne parliamo da tanto di quel tempo che la cosa si è quasi spostata nel regno dei sogni a occhi aperti». A fianco a lui, per il ruolo di Giuseppina, Kubrick avrebbe voluto Audrey Hepburn, la quale tuttavia declinò l'offerta. Ma ovviamente non è finita qui. Per un film di 180 minuti era stato fatto un accuratissimo scouting tra l'Italia, la Romania, la Francia e la Gran Bretagna, scattando oltre 7.000 fotografie oltre a uno studio ad-hoc sui costumi, con tanto di bozzetti ed abiti di prova, come testimoniano alcune fotografie. Tuttavia, tra le cose che stupiscono di più, c'è sicuramente il fatto che Kubrick avesse ingaggiato lo storico Felix Markham dell'Università di Oxford, che insieme ai suoi 20 migliori studenti aveva il compito di catalogare, secondo un metodo inventato dal regista stesso, più di 500 biografie su Napoleone, oltre a tutti i documenti storici che potevano essere significativi per il film. Si dice che Kubrick fosse arrivato a conoscere le condizioni meteo del giorno di una specifica battaglia, una ricerca che il regista aveva intenzione di mettere in scena con dovizie di particolari e innovazioni tecnologiche, che fortunatamente trovarono il loro impiego altrove, come dimenticare ad esempio le lenti Zeiss, che permettevano di filmare con gli interni illuminati dalla sola luce delle candele, e che Kubrick sfruttò in seguito per Barry Lyndon, filmenato proprio dalle ceneri del progetto di Napoleone. Basti pensare che entrambi i personaggi non solo vivono la stessa epoca, ma sono caratterizzati da un arco di ascesa e declino piuttosto similare, con la sola differenza che Lyndon è un personaggio di finzione. L'obiettivo di Kubrick era infatti quello di raccontare una figura storica che ha plasmato la sua epoca e la storia stessa. Non stupisce quindi che, dovendovi rinunciare, abbia preferito trovare un escamotage conferendo a Lyndon dei tratti di Napoleone, piuttosto che rifugiarsi in un biopic di cui fosse poco convinto. Il sogno di Napoleone equivaleva a raccontare una figura umana complessa, che per il regista si muoveva in un mondo alle soglie della contemporaneità. Per questo motivo il regista voleva raccontare a tutti i costi non solo il condottiero, ma anche l'uomo, come qualcuno che fosse davvero il frutto della sua epoca di riferimento. Lui stesso affermò che è difficile realizzare un film su un personaggio storico che presenti le informazioni necessarie e allo stesso tempo trasmette il senso della realtà quotidiana dei personaggi. Una dichiarazione di intenti che ci fa capire che tipo di operazione quasi storiografica avesse intenzione di effettuare Kubrick, un modus operandi che, sì, riflette quella che era la sua concezione di fare cinema, ma si pone in netto contrasto con la maggior parte delle produzioni in costume che vediamo oggi, aprendo una riflessione piuttosto interessante. Kubrick non voleva che Napoleone apparisse un uomo contemporaneo, fornendo così al pubblico una chiave di lettura per il reale. La sua idea era di raccontare al pubblico chi fosse davvero Napoleone, dalla sua giovinezza fino all'esilio a Sant'Elena. Nonostante non lo vedremo mai, e sebbene in molti si chiedano se il nuovo film di Ridley Scott in uscita sia collegato al progetto mai realizzato di Kubrick, almeno non nella forma in cui era pensato. Il Napoleon di Kubrick resta un esempio coraggioso di lavoro sulla storia, che per essere svelata necessita di essere replicata dal mezzo cinematografico nelle sue luci ed ombre, senza sovrastrutture aggiuntive. Grazie alla mole di materiale lasciatoci, tra l'altro raccolto da Taschen in una monografia, un'idea possiamo farcela, il resto possiamo soltanto sognarlo. Magari ascoltando l'eroica di Beethoven e immaginando un esercito di 60.000 comparse ripreso in Technicolor. E voi? Conoscevate il Napoleone perduto di Kubrick? Vi sarebbe piaciuto vederlo? Fatecelo sapere nei commenti, noi ci risentiamo presto, sempre qui, sugli schermi di Screenworld.